L'arte a portata di Pullman. La linea 140 diventa la tela dei writers di strada e dei rappresentanti delle tre associazioni per la creatività urbana di Napoli. Tutto ciò nell'ambito della manifestazione Vans, con la concessione del comune di Napoli e dell'ANM e con il coordinamento di Inward. Tanti gli skaters che hanno affollato la pista acrobatica e che daranno vita a spettacoli improvvisati e non sul lungomare di Napoli. Arte di strada ed abilità atletiche dunque alla Rotonda Diaz, che si prepara a vivere un altro weekend di sport e spettacolo. Gennaro Maria Cetrangolo, noto writer di Napoli e presidente dell'associazione culturale 400ML, spiega l'iniziativa. Ci sono tre associazioni che sono 400ML, Bereshit e Stonige, che sono associazioni che si occupano prevalentemente di graffiti, e sono ACU, associazioni per la creatività urbana, e fanno gli interventi di restyling di questo autobus, ponendo come oggetto di ricerca il graffito, il lettering e il puppet. Il lettering è l'evoluzione delle lettere che hanno i graffiti. I puppet sono dei personaggi che si affiancano in solito ai graffiti. Grazie.